Allora, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti eh, buongiorno. Allora io ieri non sono riuscito, vabbè che Sanremo non lo guardo, vi dico proprio la verità, però non sarei proprio riuscito nel vederlo perché all'una e mezza di notte hanno mandato questo monologo lì di Drusilla Fire, quindi non l'avrei proprio visto. Anche se io il Sanremo non lo guardo nel 1995, pensate voi. Però, tralasciandolo quando lo guardio Sanremo, o che non ho ascoltato il discorso magari in diretta, l'ho ascoltato oggi in mattinata, è irrilevante, l'ho pur sento ascoltato. Vorrei innanzitutto fare una premessa, ossia che io, persona, sono praticamente, nonostante io sia praticamente all'opposto di tutta questa sfera ideologica che si sta creando nella società moderna, quindi sono totalmente sulla sfera opposta, devo comunque ecco, mandare una frecciatina prima di iniziare a Sanremo, perché Sanremo lo è stato sempre, ma negli ultimi anni si sta trasformando non più in un festival della musica italiana, bensì in un festival della retorica italiana, di una ideologia, di qualunque cosa voi vogliate, ma se mi ti devi presentare come festival della musica italiana tu mi devi portare la musica e non sensibilizzare sempre le persone ideologicamente parlando in un contesto unico e non divisibile, perché preferirei più che il contesto sia divisibile, che vi sia un modo di pensare e un altro che vengono rapportati in un festival e no sempre uno stesso format ideologico, ciò mi fa capire che questo festival di musica poco e niente, comunque non lasciando tutto ciò, adesso parliamo di Drusilla Foer, che chi è Drusilla Foer? È Giancarlo Gori, questo toscano di 54 anni che ha creato da diversi anni questo personaggio di Drusilla Foer, un personaggio molto intelligente, anche elegante, devo dire ho visto l'esibizione elegante, un personaggio molto molto elegante e intelligente, che sa veramente parlare e sa colpire anche le platee, sa colpire il pubblico e lo ha saputo fare anche questa volta, perché ragazzi, bisogna essere sinceri, io la penso totalmente all'opposto, però una cosa detto che è molto giusta sul fatto dell'unicità, cioè che noi dobbiamo rispettare tutti, la possiamo pensare diversamente, la possiamo guardare con qualsiasi ottica possibile, ma dobbiamo osservare una persona per quello che è, nel senso dobbiamo rispettarla per quello che è, perché il rispetto è sulla base di una convivenza civile e umana, quindi questa è una cosa sensatissima e giustissima, quindi ho apprezzato quel discorso su questo tasto qui, l'unicità sul rispettarsi e rispettare il prossimo, ed è giustissimo, questa è una cosa che a me è piaciuta molto, nonostante io sia anni luce, ma proprio anni ragazzi, anni luce totalmente all'opposto di questa sfera ideologica, ma io, persona, ho sempre rispettato qualsiasi altra persona, perché ognuno è unico in un modo, ognuno può somigliare a me, tutti ci possiamo somigliare e questo è una cosa giustissima. Per il resto, come detto prima, io, ragazzi, mi ha colpito, sì, è stata molto, è stata, è stata, chiamatela come volete, parliamo adesso di così da fuori, quindi è stata molto, molto forte nel suo discorso, ovviamente io ascoltandolo da persona esterna e quindi la persona soprattutto che ha una visione ideologica totalmente diversa, l'ho apprezzato ugualmente, quindi questo comunque ciò fa capire che è stata molto chiara nella sua dialettica e ha saputo comunque toccare un punto molto sensibile, quello anche del rispetto, mi è piaciuta, mi è piaciuto, è piaciuto quello che volete, che voi vogliate, però rimango sempre più basito e deluso da questo festival della musica italiana, che non guardo ormai da anni, rimango sempre più basito perché questa non è più musica, ma è propaganda, a tutti gli effetti è propaganda che poi vogliamo sensibilizzare una società, lo dobbiamo fare al di fuori del festival della musica italiana, lo possiamo fare con tanti altri, che dire, scamotage, comizi, televisione, ma non un festival della musica italiana, appare mio, ragazzi sembra appare mio, comunque complimenti per il monologo, è stato un monologo molto molto forte, e niente, ragazzi vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti, ciao